Siamo qui a Fiesel, in questo bellissimo anfiteatro, parla di cultura del vino che in Toscana va con le grandi famiglie, qui siamo in casa, una delle più prestigiose, Guicciardini Strozi, e incontriamo però un vino che non conosce la tradizionale sobrietà, diciamo delle etichette di famiglia, ma anzi punta un po' sull'eccesso. Tommaso, raccontaci un po' come nasce questo arabesque. Allora, intanto, Famiglia Guicciardini Strozi, nome storico, importante, legato a San Gimignano e alla produzione di Vernaccia e di Chianti da sempre. Questo è invece un vino, un vermentino, che viene da una delle nuove tenute della famiglia Strozi, in particolare dalla tenuta che abbiamo a Roccastrada. Quindi siamo un po' fuori da San Gimignano, un po' meno legati alla tradizione e alla storia, e su questo, quindi, ci possiamo sbizzarrire un po' di più anche sulle etichette, come giustamente facevi notare. Cambia anche un pochino nell'uvaggio, quindi un 90% di vermentino e 10% di Sauvignon, e acquista, al nostro modo di vedere, molto dal punto di vista aromatico. Ed è un vino che quest'anno ci sta dando grosse soddisfazioni, anche se, purtroppo, sta mettendo un pochino in ombra la tradizionale Vernaccia di San Gimignano. Ecco, quindi la Cusona è la caratteristica di questa Vernaccia che nasce un po' particolare, no? Come uvaggio. Ecco, qui invece siamo appunto proprio nella tradizione. Già dall'etichetta abbiamo la bottiglia che vuole ricordare il primo imbottigliamento fatto nel 1933, proprio da Guicciardini Strozi. Dentro abbiamo un vino un pochino più moderno, un vino che è praticamente un blend di tre vinificazioni differenti di Vernaccia. È un 2009, quindi già un vino leggermente invecchiato, anche per smussare quell'acidità molto aggressiva delle Vernacce più giovani, che forse è il lato che meno piace al consumo. Le persone della Vernaccia si spaventano, allora giustamente in qualche modo occorre venire l'incontro, ma direi che questa riesce a, strizzando l'occhio, effettivamente è un po' una certa modernità, però senza imbastardire. Altra cosa importante che volevo dire su entrambi i vini bianchi è l'attenzione che abbiamo fatto proprio per venire incontro al consumatore al discorso della gradazione alcolica. Sono entrambi i vini che stanno a 12 gradi, 12 gradi e mezzo. Te lo dico da ristoratore che quando servono i vini le persone che vedono 13, 16 e mezzo si spaventano. Ha giusto ragione, ma secondo me bisogna ascoltare la sensibilità del consumatore che se vuole essere tranquillo, etilometri, eccetera, mezzo grado in meno è una piccola rivoluzione, ma fondamentale. È fondamentale e con le tecniche agronomiche di cantina attuali si può assolutamente fare vino di qualità rinunciando a quel mezzo grado alcolico, anzi, che è sempre di troppo al momento. Grazie, Tomato.